Tele durruti Fulvio Abate, come ha commentato qualcuno, la realtà è sconfitta. L'abbiamo sconfitta noi, con il voto che Fulvio Abate ha conquistato per le elezioni presidenziali. Un voto. Quanto basta per essere contenti. Questa settimana mi ha fatto dono di due cose senza prezzo. La prima, passare da Piazza Cavour, dove si trova lì nei pressi la redazione del Fatto Quotidiano, e sentirmi leggero, felice del fatto di non avere più nulla da condividere con quel giornale, nemico della fantasia, quel giornale che ha la mediocrità di un foglio di carta cosiddetto uso bollo. E poi di questo straordinario voto, un voto, la realtà è sconfitta. Questa vittoria, perché non posso definirla altrimenti, la dedico alla memoria di Volinsky, George, cui dobbiamo la nostra bandiera. La bandiera di situazionismo e libertà. Basta. Questo è un giorno di vittoria. Il Marchese Fulvio Abate. Grazie a tutti.